Allora, aspetta un attimo. Allora, 12 luglio 2010, sono le 10.20, stiamo riprendendo Via Madonna della Salute. Finalmente, dopo tante richieste fatte da me e i residenti di Via Madonna della Salute protocollate, si sta rimettendo il cordolo in messa in sicurezza della strada, perché prima era tutto rotto. Grazie al comune, grazie agli amministratori di questo comune, grazie al sindaco, ai tecnici, finalmente si rimette in sicurezza Via Madonna della Salute. Ovviamente si dovrà fare anche il resto di Via Madonna della Salute, come anche altre strade. Ripeto, facciamo fatti, non chiacchiere, ci impegniamo all'amministrazione, i consiglieri, il sindaco, tutti quanti noi facciamo il nostro dovere affinché possa essere, possa essere portato ovviamente il diritto dei cittadini. Vi posso ringraziare ovviamente, e qualsiasi cosa sono sempre a vostra disposizione su tutto il territorio. Francesco Portoghese fa fatti, non demagogie e mi impegno affinché i cittadini possano essere soddisfatti, perché è un loro diritto. Ripeto, questa è Via Madonna della Salute e finalmente si sta mettendo in sicurezza. Grazie a tutti quanti voi, grazie sindaco, grazie amministrazione. La strada pure sta venendo spazzata, quindi anche l'impegno su questo, e ci sono protocolli ufficiali, iscritti, segnalazioni fatte da me, sottoscritto, su segnalazione vostra, cari cittadini. e con questo ho finito.